Era il gorgheggiante, automatico imbonitore sulle soglie del cinema prima del 1910. Ora figura nella galleria degli antenati, insieme col teatrino delle ombre che divertiva Carlo Alberto e con l'ottocentesca lanterna magica. Queste escursioni nella preistoria del cinema si compiono nelle sale della mostra torinese che raccoglie i successivi tipi di macchine da presa fino al 1918 e riassume in due manichini il film Rad Ultera del 1910. Un'altra mostra in Germania riesuma il primo film parlato, prodotto nel 1922 dal dottor Fock. Ha parlato tanto per intenderci l'uomo.